Sulla consulta è sempre tutto in alto mare, anche per l'ultima nomina al CSM. Voi state discutendo al vostro interno, uscirà una proposta? La proposta la dovrebbero veramente fare gli altri partiti. Noi i nostri nomi li abbiamo già resi pubblici e anche ratificati sulla rete. Quello che abbiamo chiesto già mesi fa ai partiti era di prendere una posizione di pubblicizzare i loro nomi. Abbiamo mandato anche in settimana una lettera a tutti i singoli parlamentari perché si aprissero a una discussione con noi ma di fatto ad oggi sono usciti due nomi ma neanche direttamente dai partiti. Quindi restiamo in attesa, sono cinque mesi che aspettiamo, sarebbe anche ora che qualcuno ci desse una risposta.